Ed è la calenda mai all'appuntamento clou dell'anno del Seagr Club Biella, infatti proprio anche nel 2012 è stato festeggiato decisamente in modo molto forte. Ne parliamo con Massimo Gandini, tesoriere del Seagr Club Biella. Dunque veramente una conferma di quello che è il vostro club e della forte propria adesione. Sì, buongiorno innanzitutto. Quest'anno abbiamo cercato di fare qualcosa di più imponente dell'anno scorso. Quest'anno abbiamo voluto fare una tre giorni. Siamo partiti di giovedì sera. Venerdì eravamo a Europa per un primo pranzo. Poi siamo andati a Ceriona Golf Club al pomeriggio dove abbiamo fumato due sigheri molto importanti. e poi abbiamo pranzato e cenato lì e il giorno dopo sabato eravamo all'hotel Marina Viverone dove tutti gli anni ci ritroviamo e dove c'è stata la festa. C'è il pomeriggio torneo di bocce e poi la domenica, come si dice, liberi tutti. Rompete le righe poi. Ma quest'anno appunto c'è stata la particolarità proprio di alcuni interventi all'interno della vostra festa. Sì, quest'anno dobbiamo dire siamo stati onorati di avere con noi il, prima di tutto, il nostro presidente dottor Minetti che è venuto su dalle Marche. E poi ci ha portato con sé la direttrice del Museo Nazionale dell'Havana di Cuba che essendo vacanze in Italia ha rubato un paio di giorni per venire da noi e per portarci la loro cultura, la loro mentalità, il loro modo di fumare il sigaro che sono una cosa, un'esperienza soprattutto importante per noi. voglio dire da avere qualche d'uno che il sigaro lo vive proprio al 100%. Insomma, potrebbe essere Cuba il prossimo obiettivo a questo punto? Eh beh, ci piacerebbe. Non bisogna mettere l'ibito alla provvidenza, però ci stiamo pensando. Però sarà una cosa un po' complicata da organizzare, ma vediamo. Visto che i Maia ci hanno dato una mano e non dobbiamo morire tutti quest'anno, vediamo il prossimo anno. Ma è vero che il Sigar Clubiella diventa veramente sempre più un punto di riferimento veramente del mondo, anche a livello nazionale? Sì, il nostro, devo dire che adesso non per vantaggi, però noi siamo abbastanza conosciuti a livello anche nazionale perché il nostro presidente è comunque segretario della CCA nazionale, quindi c'è a contatti col presidente. E poi comunque noi diciamo che questa nostra festa che organizziamo ha sempre un bel bacino d'utenze, anche perché diciamo noi ci mettiamo anche il cuore per fare questa cosa qua e quindi cerchiamo di farla rendere sempre al meglio rispetto alla festa che poi farà a fine giugno il nostro presidente a Matelica, che quello per carità non sia tanto di cappella, non possiamo, però nel nostro piccolo diciamo abbiamo avuto gli apprezzamenti proprio dal presidente che è rimasto contento di quello che abbiamo organizzato. Tutto è andato bene, quindi tre giorni intensi decisamente, poi vi siete decisamente riposati. Sì, sì, beh, no, diciamo che il tempo è stato abbastanza, non ci ha fatto tribolare, ecco, nel senso che c'è, sì, il sabato pomeriggio erano qualche gocciolina, però abbiamo dovuto mangiare al chiuso, però poi dopo abbiamo fatto la gara di bocci anche, abbiamo anche consegnato tutti i vari diplomi alle persone che come me per esempio erano stati nominati, diciamo che dopo il corso che è stato fatto, il corso Catadores, che è stato fatto, maestro conoscitore del sigaro, che è questo corso che abbiamo fatto, che abbiamo fatto tra Biel e Torino, e poi abbiamo, c'è stata la premiazione e la consegna dei diplomi, che è stato un momento anche molto toccante, almeno per me, mi sono anche commosso, perché è effettivamente una cosa comunque bella, che comunque ha fatto piacere a tutti e abbiamo consegnato comunque la piastrella ricordativa dei nostri convivi e tutto è finito, come si tratta la luce vino. Anche perché in effetti non è semplice, mi diceva proprio che bisogna sottopursi ad un esame per ottenere questo riconoscimento. No, no, il corso Catadores è un esame anche impegnativo, non è una cosa che va presa tanto per la leggera, perché comunque c'erano 35 domande a risposta quadrupla, poi c'era il test del sigaro, che bisognava accendere il sigaro fumare, compilando una scheda che viene data e cose, poi c'erano gli esaminatori, i professori, i docenti, che facevano le domande e quindi anche lì c'era tutto sulla storia, su come il sigaro, come nasce, come si mantiene, tutte le cose dove viene prodotto principalmente, quindi ci sono tutte queste cose che comunque uno deve sapere, per carità non siamo sommiei, nel senso che non è, però comunque è un primo passo verso un qualche cosa che può, piacevole comunque, ecco. Sigar Club BL, i prossimi appuntamenti quali saranno? Beh, Sigar Club BL per il prossimo appuntamento, attualmente noi ci troviamo tutti giovedì sera nella nostra sede sociale che è al piazzo, sotto i portici, e poi prossimamente adesso non abbiamo in cantiere, non abbiamo niente perché quella è la festa principale, poi vedremo se ci saranno delle occasioni, ogni tanto abbiamo delle serate in cui, non so, un gruppo di Torino o Milano ci chiama perché appunto per fumare un sigaro, per mangiare, degustare qualcosa di particolare, però per il momento cose di grossa importanza non ci sono, siamo nella nostra nicchia e cerchiamo di studiare qualcosa per stupire per il prossimo anno, ecco. Ma se qualcuno che, non so, dei nostri ascoltatori, venisse in mente, voglia andare a vedere com'è, può venire? Sì, sì, noi il giovedì sera siamo lì, tutti giovedì sera dalle 9 alle 11, 11 e mezza, siamo lì in via Avogadro 6 se non sbaglio, al piazzo e aspettiamo tutti coloro che vogliono venire o vanno sul sito del Sigar Club BL a Mondo Sigaro, praticamente dove ci sono anche tu numeri telefonici di riferimento per eventualmente avvicinarsi al sigaro e quello che può essere uno, cioè che uno lì vuol provare, perché poi il sigaro non è una cosa che a differenza della sigaretta, il sigaro fa molto meno male perché il sigaro non si aspira e cose, poi ha un profumo che che le signore ne dicano, le mamme ne dicono, c'è il, dà un profumo che comunque aromatizza la stanza, ecco. Questo in realtà e poi insomma fumare un sigaro è un piacere, vero? È un piacere, sicuramente è un gran bel piacere.